Le conclusioni del Consiglio europeo in merito alla guerra in Ucraina contengono delle dichiarazioni prive di alcuna efficacia e utilità per raggiungere l'obiettivo che tutti dovremmo perseguire, ovvero la cessazione del conflitto in atto. Esigere infatti che la Russia si ritiri incondizionatamente, consentendo il ripristino della situazione precedente all'ingresso delle proprie truppe sul territorio ucraino, è un puro esercizio verbale, velleitario e pleonastico. Peraltro ricordo che l'Ucraina prima del 24 febbraio scorso non era esattamente un paese pacifico, visto che la guerra nel Donbass dura da otto anni e anche lì ci sono stati massacri di civili, donne e bambini, ucraini, nella nostra indifferenza. E nemmeno era democratico, viste le misure repressive adottate dal suo governo nei confronti dei cittadini russofoni e delle opposizioni. Ma in ogni caso, le sanzioni elevate al popolo russo e bielorusso non hanno sortito alcun effetto sullo scenario bellico, mentre hanno innescato una gravissima crisi energetica e ripercussioni sui sistemi industriali, agricoli e alimentari dei paesi europei. Oggi sento proporre addirittura un embargo totale del gas russo, nei fatti assolutamente insostenibile per la nostra economia, sulla base dei fatti di Busha riferiti dal governo ucraino, ma sulla cui veridicità ci sono già molti dubbi. Dovremmo piuttosto mandare un'inchiesta indipendente in Ucraina per indagare sulla reale dinamica dei fatti e sulle reali responsabilità per le violenze e i massacri a danno dei civili. Il sottosegretario generale dell'ONU, parlando al Consiglio di Sicurezza, ha riferito sulle denunce di violenza sessuale da parte delle forze ucraine e delle milizie della protezione civile e l'ONU con la missione umanitaria sta verificando queste accuse. Quindi ulteriori fidanziamenti europei all'industria delle armi o ulteriori sanzioni potranno solo prolungare questa guerra, aumentando il conto delle vittime e aggravando una crisi che colpisce oggi un'Europa già debole. L'Unione Europea dovrebbe recuperare un ruolo di terzietà e obiettività, individuando un proprio rappresentante che sia super partes, per facilitare il negoziato e a divenire alla cessazione delle ostilità, possibile solo con una mediazione efficace che non veda né vinti né vincitori. I nostri cittadini vogliono un'Europa che promuova la pace e la stabilità, non vogliono finanziare una guerra e desacerbare una frattura con governi e popolazioni nostre vicine sia geograficamente che culturalmente. Ascoltiamo i nostri cittadini. Grazie. Grazie onorevole Donato. Allora, io ho evitato di interrompere, però mi sia consentito di dire una cosa, che quest'Aula non può diventare in alcun modo il megafono di posizioni che sono assolutamente non accettabili. Il massacro di bucia, onorevole Donato, è sotto gli occhi di tutti e noi non possiamo accettare, lo dico con molta chiarezza, che in quest'Aula venga messo in discussione addirittura questo. I massacri che stanno avvenendo in questi minuti, in queste ore, di civili innocenti, sono sotto gli occhi di tutti. E in quest'Aula non è accettabile che questo possa essere messo in discussione. Quest'Aula, onorevole Donato, non è equidistante. C'è un aggressore, che è Putin, e c'è un aggredito, che sono i cittadini ucraini, che quest'Aula e le istituzioni europee difendono. Se ne faccio una ragione. E ora passo la parola all'onorevole Bogdan. Prego, mi ha facoltà.